Oggi Mercurio entrerà nel segno zodiacale della riete, maggio è un mese interessante, come pure questa settimana in ciò i nati del segno sono primi nella classifica. C'è un buon recupero a livello fisico per il toro, tutte le cure che nascono in questo periodo per migliorare il proprio benessere. Dal punto di vista sentimentale i nati del segno gemelli hanno dovuto spesso accontentarsi nell'ultimo periodo. L'ultima parte del mese invita Cancro ad essere un po' più cauto. Ci sarà secondo l'esperto di astrologia Paolo Fox un momento di forte agitazione per il leone, che da venerdì dovrà essere contrastato. Per l'oroscopo Paolo Fox oggi 17 aprile 2019 vergine soprattutto nel lavoro ha tante incertezze. E si sta chiedendo se vale la pena continuare o meno determinate collaborazioni o una relazione. Bilancia in questo momento stanno vivendo un periodo di forte ribellione. Mercurio torna in un aspetto neutrale, quindi bisogna dire che le situazioni nate nelle ultime tre settimane sono importanti per lo Scorpione. Sagittario deve concentrarsi sulle questioni pratiche che riguardano il lavoro. Tra la fine del mese ed i primi giorni di maggio è probabile che Capricorno decida di prendere una scelta drastica. Conviene all'acquario prendere di petto questa situazione di transizione e mantenere la calma. C'è ancora una condizione astrologica piuttosto pesante e complicata per i pesci.